Dove andiamo? Voglio cominciare qua a capire un po' la situazione Va bene così ragazzi Mi serve la foto di copertizia, mi serve Vogliamo scendere aggressive e prenderci anche la casa? Minchia è nostra la casa, vai E' ancora in caricamento intanto lui, vai Ho uno dei deltaplani più fighi che abbiano mai fatto Il lama gonfiabile, è troppo bello Ok potrebbe essere contestata E' contestata No, sembra non è pacco Vi do uno shieldino Ah lei ha già il tac Apra lei, io adesso dietro Qua sotto eh Grazie Prendo la mitrag... Eh ma diamo la mitragliata Ok Ho capito dove sono? Sono qua all'esterno Uno è andato È dietro dietro Ma no Non è finita No, 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 non puoi stare lì No, la salvo dopo e non si preoccupi È davanti a me Dobbiamo vincere questa partita Che deve andare sul canale YouTube Deve andare questa partita Ammazzo gente con fiocine Arrivano Si faccia il medikit Vai Sono sotto Non ho mazza Lei ammazzo Io salirei ancora nel sottotetto Salirei Farmerei quello che c'è sopra Sire Mangia per la... Allora quando c'è una super kill Arriva la mancia da 100 Quando è una kill normale Arriva la mancia da 20 Anche... Non si capisce perché hai bot Grazie Sire Ho gli scudini Venga qua Venga qua Venga qua Sistemi Ottimo Esistono le kill Le super kill C'è gente? Bravissimo Abbiamo gente dentro Lascia perdere Eh si Polla Si Uno è morto Sono dietro con te Uno è il tratto Bravissimo Bravissimo Ci sono? Bravo Bravo Let's go Let's go Te ne sei fatto uno Quella fioccina Eh si Andiamo Cosa fa? Scusi Coppia cose Andiamo Ragazzi Questa deve andare sul canale Assolutamente E' a posto con i mazzi Più o meno La seguo Si faccia questo Arrivo Dove sono? Rampino Si è fatto il fungo Si lo vedo Si continua a spostare con il rampino Pur cavigliaca Ma possiamo anche lasciarlo perdere Inutile inseguire questo Ok Farei un salto al volo qua E potenzierei il tac Che c'ho ancora il tac verde Serio? Andiamo 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 No potenzierei ugualmente Anche se hanno fatto il reboot Vuole pusharli? Ma lei li sta pushando Allora andiamo Andiamo Mi sto avvicinando In mezzo al granuro E' a tommigan Morto quello con la tommigan Bravo Bravo Prende il rampino Se le interessa Buono Certo Vado a potenziare il pompa Come dicevo prima Che gente è dietro la casa Quale casa? Quella grossa? E' quella la noxia Ce n'è uno qua? Siamo scoperti alle spalle Eh lo so Eh nella casetta Quella lì O stato Due Dove? Eh là Dobbiamo provarci No ma c'è gente qua Che ha un buon AIG Eh appunto Aspettiamo un secondo Non vedo nessuno Perché camperano tutti in pubblica Ho paura che se pushiamo ci focussano poi Ma che stanno buildando quel mattone Ma Io li pusherei solo per se stronzate Te li pusherei Potrei pushare 33 Io stanno sprecando i razzi Mi costo e buono Assolutamente Per l'endgame Quello ce lo prendiamo noi Ah cazzo Ma pushiamo sta merda Per favore Eh è craccato uno Vai Un è scappato Vengo a darti una mano Un è bianco Questo qua sotto me E qua eh Sarà uno Morto Vale Eh mi danno i scildini Certo Vengo qua sotto C'è il pompa mitico Qua c'è il scildini per terra Lo vuole il pompa mitico Lo prende lei? Eh no Se vuole lo può No no non mi interessa Se ha uno scudo Eh ok scudone se lo fa lei Dov'è il lancia Il lancia granate di questo? Ehm Ti arriva sopra Prendiamocelo Importante L'ho trovato? Ehm Grazie sire Ho preso Ho preso? Guardi qua che c'è un po' di loot per terra Aspetta mi sa che c'era giù uno scar e non l'ho preso Ok Prendo il cecchino Arrivo La seguo Ciao Black Panther Benvenuto Ciao caro Sono qua sopra Non so come ho fatto a risciarlo Avanti Quello di altro Mh mh C'è o per uno da solo Che potrebbe pure vincere Non so quanto abbia senso giocare con questi Eh appunto A meno che Se te rimani lì Ti prendo da un'altra parte Sono sceso di un piano Ok Va dagli fastidio da lì Stai lì eh Stai lì Stai lì Dagli fastidio Eh mi sa che m'ha visto No non credo Ok uno sta augurando 26 26 22 110 Continua a tenerli eh Non esiste che si curano quelli Non lo so quanto convenga Vedo un po' lei Mi stai pushando veramente? Arrivo Ho accorto ora che non ho È craccato uno C'è uno sul tetto dove eravamo prima eh Devo farmi questo Bravo grazie 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 Ce l'hai ancora un secondo No No Siamo sotto non so Ah non devo pushando Una pressa e 63 di danno Sì ma si saranno già curati Ah ok uno pusha uno resta ci sta Bello Uno contro uno Let's go Let's go Sì cazzo E andiamo Sì che abbiamo il contenuto per domenica Cazzo Let's go Quanti chi l'ha fatto? Miliardi Dai eh non lo so Io sa Dai eh Miliardi